Ecco cos'è successo ragazzi sul nostro pianeta il 15-16 luglio del 2022. Andiamo con la prima notizia. 10.000 ettari di terreno bruciati. 13.700 persone sono state evacuate. Francia. Guardate qua un vero e proprio caos climatico ragazzi. Tornado innevata, Stati Uniti. Clima veramente sconvolto. Un incendio a Sabadell airport in uno dei giardini che circonda nell'aeroporto spagnolo. L'incendio boschivo è fuori controllo. Guardate qui un vero caos. Incredibile sorgere della luna sul mar nero. Romania ragazzi. Guardate qui la luna rosso sangue. Stiamo a posto. Già i guai sono tanti. Adesso anche questo. Non lo so. Lo vedo come un presagio ragazzi. Ma può darsi di no. Vediamo qui super luna recente negli Stati Uniti. Anche qui. Però almeno qui la luna è solo grande e non rossa. Incendio nel Marocco. 1000 ettari bruciati. Veramente ragazzi. Non manca nulla. Vediamo un'altra notizia. Tornato d'acqua a largo delle coste del Messico. Ecco. Grazie a tutti. Grazie.